Decine e decine di occhiali griffati per una cifra complessiva di diverse migliaia di euro. A tanto ammonta il valore della rifurtiva di cui sono riusciti a impossessarsi i soliti ignoti in azione nella notte tra mercoledì e giovedì scorso a Rivergaro. Nel mierino dei ladri è finito un negozio di ottica situato in un centro commerciale. I ladri hanno forzato la porta a vetri d'entrata fino a mandarla in frantumi facendo scattare l'allarma antifurto. Con un gesto fulmineo sono riusciti a prelevare numerosi occhiali dagli espositori e rovistare nei cassetti. All'arrivo dei metronotti del Livri i responsabili si erano già dileguati facendo perdere le proprie tracce. La prima stima del colpo sommando danni e refurtiva è di ben 10.000 euro. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Rivergaro. Nei pressi del centro commerciale sono situate delle videocamere di sorveglianza che potrebbero fornire indizi utili sull'identificazione degli autori del colpo.